Buongiorno, siamo tutti a conoscenza della catastrofe che ha colpito il centro Italia in questi giorni. L'autobaselli, come già fatto 4 anni fa per il terremoto dell'Emilia, ha deciso di donare 10.000 euro alle persone terremotate, aderendo all'iniziativa del giornale di Brescia. Da oggi, 27 agosto 2016, le prime 20 autovetture disponibili nel home page del nostro sito saranno contrassegnate con un cuore. Alla vendita verranno tolti 500 euro del nostro ricavato che saranno devoluti all'emergenza di terremoto.